È successo, quasi romanticamente, che l'Inter comunque non riesce a vincere contro il Cagliari, non tanto per dei meriti dell'Inter, ma perché ha trovato un signor Cagliari che, come ha fatto anche nelle ultime 5-6 partite, sta confermando i numeri di Ranieri che sta riportando il Cagliari a salvarsi quest'anno. Perché, mi sembra se non sbaglio, nelle ultime 6 partite il Cagliari con il parigi di stasera ha due parigi, tre vittorie e solo una sconfitta, quindi onore a loro perché poi tra l'altro due volte sotto e due volte sono riusciti a riprendere l'Inter a San Siro, quindi onore al Cagliari. Ma, 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 a me va benissimo così, va benissimo così, perché io volevo vedere questo derby, io volevo assolutamente vedere questo derby e adesso perché l'Inter possa vincere aritmeticamente il campionato, insomma, per la seconda stella deve battere, quindi conquistare i tre punti contro il Milan. Sarà una partita bellissima, io non vedo l'ora di vederla, non vedo l'ora di vederla, sono veramente contento di poter vedere una partita del genere, più che altro con questi presupposti, con questi presupposti qui. Un Milan che farà di tutto per non perdere essenzialmente, un Inter che farà di tutto per vincere, ma più che altro sarebbe bello appunto sotto questo punto di vista, in primis perché mi pagate mezza vacanza, quindi magari sarebbe bello vederlo durante il derby. Secondo perché, cioè nel senso, sarebbe una roba incredibile, tipo come se fosse una finale di Champions quasi, quindi diciamo che comunque io ragazzi essenzialmente l'avrei aspettato lo stesso anche in caso di una vittoria dell'Inter stasera, però non sarebbe stato così romantico perché lì in quel caso sarebbero bastati due risultati, se non sbaglio anche il pareggio, oltre che la vittoria all'Inter. Invece così l'Inter è costretta a vincere contro il Milan, quindi sarà una bellissima partita, non vedo l'ora davvero di vederla, comunque ragazzi a parte tutto stasera, Inter che comunque ha giocato bene, ma ha trovato davanti un Cagliari stoico, veramente stoico, cioè nel senso un Cagliari ragazzi che non si è mai piegato, mai, anzi alla fine nell'ultima ripartenza addirittura rischiava quasi di vincere, se Violo ovviamente non l'avesse tirata centrale di testa a Sommer, però comunque, cioè nel senso al 94esimo nessuno c'ha più banano, non c'ha più forze, se avessero addirittura vinto sarebbe stato quasi uno smacco per l'Inter, però comunque da una parte se lo sarebbero quasi meritati perché effettivamente ragazzi il Cagliari che va a San Siro a fare una prestazione del genere, cioè proprio chapeau, chapeau a Ranieri e a tutto il Cagliari in generale. Però l'Inter appunto tutte le volte non riusciva a fare quell'affondo finale, anche il pressing, il forcing dopo il pareggio del Cagliari del 2-2 per tutto, fino alla fine non sono mai riusciti a affondare per bene, abbastanza imprecisi però comunque giusto così, dai giusto così, quasi quasi io ci speravo in un risultato del genere proprio per poter vedere un derby del genere la prossima settimana. Non vedo l'ora davvero di vederlo, non vedo l'ora di vedere questa partita.